Via Libera all'intervento sul Viale dei Pini, la strada in frana che a Santa Lucia del Mela minaccia di danneggiare sia l'asino lido che la scuola elementare. L'ufficio contro il distesso idrogeologico, guidato dal presidente della regione Nello Musumeci, ha espletato anche la gara d'appalto per affidare i lavori. Saranno eseguiti dal consorzio stabile Sichelia di Palermo per 820.000 euro, importo che permetterà all'impresa giudicataria di completare un'opera di consolidamento rimasta a metà nel 2014 per mancanza di risorse. Il Viale dei Pini è un'arteria importante perché consente l'ingresso al paese e rappresenta di conseguenza una preziosa via di fuga. Da anni però gli smottamenti che la tormentano ne hanno fatto zona a rischio, un'area classificata R4 e l'allarme si è via via esteso a tutte le strutture nelle vicinanze come il sottostante parco urbano comunale, attrezzato con giochi per i bambini. La realizzazione di paratie, gabbioni metallici e di una rete di raccolta e smaltimento delle acque piovane riconsegneranno adesso all'importante arteria la necessaria solidità, eliminando definitivamente i pericoli anche per tutte le altre strutture e infrastrutture adiacenti. Ciò consentirà inoltre di creare una viabilità emergenziale stabile tra la strada provinciale 66 Ter e il Viale Aldomoro, lungo i quali sarà realizzato pure un impianto di illuminazione.